grazie a dio grazie a dio intercity notte partono però volevo dare una tirata d'orecchie alla meloni perché ho capito perché hanno fatto hanno fatto la lo sciopero e hanno ragione metti un po di cazzo di carabinieri e polizia qua capito se no questi cazzo di stracomodità gli scassano i coglioni dio fa ha capito giorgietta complimenti intercity notte che si partono sempre mi hanno detto vai deve scendere no no tu dove cazzo vai mi hanno fatto fare pure di pagare ma si è una pre bella c'è una promozione grazie grazie arrivederci andate andate dove dove salerno mammy a salerno vuoi andare aspetta un secondo dove siamo guardate che non c'era nessuno non c'è nessuno diretto abbiamo trovato un treno diretto a parma solo che solo all'interno ci sono vero torino parma per chi volesse e noi di che partita dove il 3 vediamo se mamma in grado di capire un po di matematica e 3 sarà nascosto il 3 vedete vediamo mamma finché trova il 3 dov'è allora effettivamente mamma ha anche ragione 10 il 3 dov'è è di qua dove vai guarda chi è di qua grazie vieni qua vieni meno male che ci aiutano ah dove c'è scritto come cazzo è possibile c'è scritto veramente ah ecco hai ragione grazie signore più grande non lo potevano fare dio fa guarda te fai di numeri più grandi siamo in fondo si qua due e tre qua siamo qua siamo qua non posso sedere 3 ma che faccio lascio qui dimmi il tuo nome il tuo nome il mio nome io sono diaboli ma mi serve il tuo biglietto e che cazzo mi serve ce l'hai tu il biglietto allora c'è tutto il posto del mondo cambio soluzione ce l'hai tu ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io il cambio soluzione io sono il 3 e sono qui vado a pisciare vai a pisciare ma guardami la porta che bello hai visto questo si è spettabile dai di poi prendiamo l'interno te diretti e ciao le metri non andare l'altra ecco da dove vai spettacolari questi frecce no questi interno te mamma mia va bene così dai adesso avviso mio padre che tutto ok voglio vedere il cazzo a posto avvisato mio padre